Una sera Ed decide di portare con sé una pala e inizia a scavare. Scava, 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 arriva la bara, la apre, tira fuori il cadavere di sua madre. Tra le mani nude prende la testa della donna, la stringe, la torce fino a staccarla e la mette da parte. Poi rimette a posto la tumba, prende la testa e la porta a casa. Comincia a eseguire sulla testa della madre un certo trattamento, una specie di imbalsamazione. La rimpicciolisce e la trasforma in un artefatto da venerare.